Che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? Risse tra baby gang che si susseguono in molte città italiane come Gallarate, Parma e Roma qualche settimana fa, giovani che si sfregiano per combattere l'alienazione del periodo delle restrizioni per il Covid. Si vive un momento di evidente disagio, rinchiusi per troppo tempo nelle proprie case, davanti a smartphone e computer. Ne abbiamo parlato con il professor Francesco Paolo Romeo, esperto dei processi educativi e informativi, pedagogista, psicologo dell'età evolutiva e autore del volume Sollecitare la Resilienza. L'impegno che bisogna prendere è quello di costruire delle opportunità per riflettere intanto di questi fenomeni, per cercare anche di comprendere le ragioni, che possono anche essere abbastanza semplici. In questi giorni noi abbiamo visto un po' questa escalation che riguarda le maxirisse. In un tempo di emergenza sanitaria, che ricordo sempre, va legata all'emergenza educativa, quindi è una sorta di doppio trauma. I minori sono quelli che alla fine non hanno gli strumenti per poterle fronteggiare e quindi in qualche modo non riescono a convogliare queste grandi energie che poi sono proprio dell'età preadolescenziale e adolescenziale in qualcosa che possa essere utilizzato meglio all'interno della società e che possa in qualche modo fargli comprendere la bellezza dei progetti personali.